Conferenza di fine anno a Macerata con la Giunta Carancini per ripercorrere le tappe principali del 2016. Le novità più importanti arrivano dal dibattito sulla sanità, dalla cultura e dai finanziamenti cipe per la Mattei Pieve. Ma soprattutto è stato un anno segnato da un prima e un dopo sisma. È un anno che ha due volti quello di un prima, di un percorso che continua e che riesce a raggiungere anche alcuni risultati significativi, peraltro ancora non completi. Ma c'è un dopo che invece ha orientato tutta la nostra attività e i nostri pensieri alle persone. Il 2016 possiamo dire che è stato un anno straordinario per quanto riguarda la lirica e si avvicina anche, diciamo, sembra la firma, la conferma per un altro triennio per Francesco Micheli. Sì, siamo vicini, ci siamo più volte parlati. Francesco naturalmente stimola questa città, oltre che lo sferisterio, a cercare obiettivi più alti. E questo forse è l'elemento che ci mette un po' in preoccupazione, ma credo che sia giusto così. Però nello stesso tempo vedo tanto desiderio, tanto passione di Francesco nel restare con noi. E credo che questo sarà poi la molla decisione per chiudere la partita. E quindi andare avanti in questo progetto del Macerato Opera Feser, che fin qui davvero ha avuto un percorso netto. Perché noi dal 2012 continuiamo a produrre due opere nuove all'anno, continuiamo a mettere successi in termini di presenze, continuiamo a raccogliere grandi risultati anche sotto il profilo artistico, alla luce anche davvero delle performance dei più grandi cantanti che sono passati negli ultimi cinque anni qui. Ultima tra esse è Maria Ossè Siri. Direi che su Via Mattei Lapieve forse è stato poco percepito, ma è stato un passaggio decisivo quello di un mese fa. L'approvazione da parte del Cipe di quel finanziamento significa che quella opera è finanziata ed è una priorità per le opere pubbliche. E quindi è un passaggio molto importante. Ora occorre impegnarsi per far redicere prima possibile il progetto esecutivo e poi mettere a bando naturalmente la realizzazione di quella struttura che stravolgerebbe in senso positivo la qualità della vita dei cittadini maceratesi. Lei ha apprezzato e sottolineato il dibattito sulla sanità che c'è stato nel 2016. Forse diciamo il più attento e anche attivo negli ultimi cinquant'anni sulla sanità e chiedendo anche un'attenzione particolare proprio da parte della regione anche su questo territorio, l'area vasta 3 colpito dal sisma. Anche qui mi piace sottolinearlo perché credo sia stato fino in fondo forse valorizzato. Quello che è avvenuto nella conferenza area vasta mi pare di San Severino a luglio è un passaggio storico perché tutte le amministrazioni provinciali dei comuni della provincia abbiano deciso che in questo territorio debba esserci un'unica struttura, un solo ospedale è un fatto storico, mai era accaduto in passato ed anzi in passato si sono sempre alimentate le divisioni e i campanilismi. Quel passaggio è stato strategico, non si può più tornare indietro e allora a questo punto il 2017 deve essere l'anno in cui la regione programma immediatamente, direi io, nel piano sanitario la realizzazione di questo ospedale nella sede che sceglierà ma in secondo luogo noi chiederemo come conferenza area vasta che questa progettazione, questa pianificazione sia anteposta a quella degli altri territori non certo perché siamo più belli ma perché quello che è accaduto ad agosto ed ottobre in questo territorio non può far restare indifferenti chi ha compiti di governo regionale. Sul piano internazionale Macerata che guarda sempre più a oriente non è solo il tema della stagione lirica 2017 ma anche questa novità di Taizan veramente apre un'aria anche inaspettatamente rispetto a come era iniziata uno scenario molto verso oriente appunto anche sulle scie di padre Matteo Ricci. Sì c'è stata un'accelerazione inaspettata, una condivisione nei progetti che non pensavamo di poter raggiungere invece nel giro di sei mesi abbiamo aperto scambi che hanno riguardato la scuola aperto scambi che hanno riguardato lo sport e naturalmente anche gli aspetti culturali e imprenditoriali mai mi era capitato in questi cinque anni di governo di poter concretizzare con questa velocità opportunità che questa città può avere. Pochi giorni fa ho incontrato la delegazione del Guangdong che pure è straordinariamente interessata ad aprire canali turistici che naturalmente hanno bisogno del tempo per poter maturare ma che certamente consentiranno alla città di avere un profilo non solo di qualità interna ma anche di valore internazionale. 2016 si è chiusa anche l'era della Tardella alla Via della Maceratese si è aperta invece la gestione Spalletta che tipo di dialogo, quali incontri ha avuto con la nuova dirigenza si è parlato anche di investimenti importanti sulla città addirittura di un nuovo impianto sportivo cosa c'è di vero, quali impressioni ha avuto? Allora intanto credo che vadano fatti i complimenti e il saluto alla Presidente Tardella che io lo voglio ricordare al di là dei nostri buoni rapporti ha portato questa società nella Lega Pro sarebbe davvero sbagliato non riconoscere questo straordinario merito che qui non arrivava da qualche decennio il secondo elemento è che sembra che la nuova dirigenza abbia una visione dello sport che davvero ci appartiene intende realizzare una nuova struttura per giovani vorrebbe non immediatamente ma insomma realizzare un nuovo stadio per fare progetti ambiziosi e noi in queste prime interlocuzioni siamo stati molto colpiti positivamente e vi è la totale disponibilità dell'amministrazione a mettere a disposizione le eventuali proprie aree per poter dare vita a questo progetto che è estremamente interessante e secondo me anche molto lungimirante sotto il profilo del progetto sportivo Infine qual è il suo messaggio d'auguri anche attraverso le nostre telecamere e alla città sia per il Natale ma anche per il 2017 per le feste? Naturalmente l'augurio è che si possa trascorrere un 2017 di maggior serenità e che possa farci ritrovare tutti insieme quello che mi piacerebbe che si potesse così vivere è ancora una maggiore consapevolezza di questa città della coesione perché anche in questo passaggio così difficile vi è stata una comunità straordinaria in cui tutti hanno lavorato per tutti e anche e soprattutto per chi ne avesse più bisogno e questo è un dato di cui non possiamo non citarlo e è oggettivamente inconfutabile quindi una maggiore serenità io sono molto ottimista sarà un anno di svolta è l'anno della trasformazione e spero il prossimo anno nella conferenza stampa del 2017 insomma se riuscirò ad arrivare bene in quella situazione di poter raccontare qualche importante obiettivo che davvero potrebbe cambiare la qualità della città perché quello è l'obiettivo che ci stiamo dando e vogliamo raggiungere grazie a tutti